Tutti in questo nuovo video, adesso andiamo su Lucky Wars Lucky Wars Se siete di cieco o no? Guarda Non vedete? Guarda adesso Qui abbiamo già Finito Vita Adesso Qua abbiamo questa gomma È un letto, non so se è un letto La mia gomma è da cancellare E cancellare Con il foglio Quando ho scritto con la matita Sì cancellare con il letto Cancellare con il letto La zappa 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 la terra Con un giardino Con un giardino Chi si sporche la faccia Guarda Contadino Il pulcino Cos'è? Il pulcino? Il pulcino Pio Il pulcino Pio Cos'è? È un uccello? Un pulcino Ma cos'è? Un pulcino Un pulcino di neve? ruta saluta fuga non si affoga frapposa affogato presente che quello e mostro il mostro non fare mai così quello è presente quello lì popaggio con le pila non esiste mai tras che è colpa della fantasma che l'ha fatto così perché ci sono i fantasmi ora non ha fantasmente non con poi lo fa insare così non sappiamo cos'è un targhetto un muro cos'è dei alberi di natale e quello cos'è benvenuti a tutti quanti nel secondo la seconda parte di questo video benvenuti in questo nuovo video di questa seconda parte in questo primo di benvenuti in questo nuovo video in questa parte guarda guarda c'è il divano anche c'è anche il divano c'è anche il divano guarda sì sì no prima c'era sembrava sì è un bar sembrava lì cos'è c'è no oppure hai pensando quei cos'è che for he de erano da una scossa qui prende uno delle nido su di veder juempt questi no quelli no no mi sembrava quelli sono adesso guardiamo le scale queste cos'è specie di cantina tutta distrutta specie pezzi va ovunque sembra come fosse in cantina tanto tantissimi fortissimi carissimi benvenuti in questo nuovissimo posto bellissimo che lo guarderemo questo questa è la terza parte in questo video c'era la prima e la seconda parte e la terza parte bene quello che è che mi ha colpito un occhio che mi ha colpito dai 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 con quello che è uguale lui, fai splodere con le bombe, con TNT, fai splodere, scavo TNT, non lo sapete, con l'oliviola, non c'è anche quello nuovo, lo hanno fatto di nuovo perché c'era sotto quello rosso, lo hanno fatto quello nuovo, avete capito? Avete capito? Avete capito? Scusa, scusatemi, questi maiali, quelli scaravaggi, quelli maledetti, quelli maledetti, e allora, vedete se ci ha portati tutti questi scaravaggi, quelli scaravaggi, che ovunque ci sono, dapprima, guarda che lo cuore, è rimasto soltanto questo, questi zombie, che non sono neanche i zombie, quando tu gli dai il fuoco, bruciarli, diventano zombie, e poi i zombie non è che si cadono per terra, che vanno piano, non veloci, non vanno veloci, vanno qui i zombie, qui, qui vanno veloci, esplosioni, la barriera è permesso, come le gamberi, vanno come le gamberi, vanno come le gamberi, capito? Perché le gamberi, i zombie vanno veloci come le gamberi, che vanno piano, i gamberi vanno piano, anche, e allora, wow, 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 ahahahah quindi qui quello aspetta il chiolcione blu di nuovo queste chiolcione delle bolle si vede qua qua si cado muoio adesso non so cosa fare allora no, bene bene 2 a 7 minuti aspetta che sto un po' qui si può adesso facciamo fino a 20 minuti perché se noi facciamo fino a 25 fino a 27 non si può che dopo non si può più mandare con 20 minuti si che si può adesso facciamo fino a 20 minuti avete capito? bella a tutti che guarda questo video di 20 minuti lasciate le mie iscrizioni nel commento hai capito? siamo ingegneri siamo ingegneria prima mortore siamo ingegneri siamo ingegneri siamo ingegneri se cadiamo giù finita è la morte siamo andati in inferno da diavolo perché diavolo non ci vuole perché diavolo non ci vuole allora noi siamo andati siamo andati siamo bruciati siamo bruciati ciao a tutti al prossimo video adesso facciamo un altro diventi adesso facciamo un altro diventi grazie grazie grazie